Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa un miliardo di persone che ancora oggi soffrono la fame. Non possiamo girarci dall'altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti. In un breve videomessaggio a sostegno della campagna di Caritas Internationalis contro la fame nel mondo, il Papa ha stracciato il velo di indifferenza che copre una delle più grevi ingiustizie del pianeta. Allo stesso tempo ha esortato ad affrontare quello che lui definisce uno scandalo ricordando un'altra mara verità, che il cibo c'è e basta per tutti. La prima campagna globale che coinvolge le 164 organizzazioni di Caritas Internationalis è stata lanciata in occasione della giornata mondiale dei diritti umani sul tema Una sola famiglia umana, cibo per tutti. Scopo dell'iniziativa è il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi di sviluppo del millennio fissati dall'ONU, eliminare la fame entro il 2015. Allo stesso tempo Caritas Internationalis chiede di fare di più per i poveri nell'utilizzare al meglio le risorse della terra e di supportare le donne che si dedicano all'agricoltura. Il cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, presidente dell'organismo. Non è giusto che ci sia tantissima gente con fame quando a volte si sprecano tantissimi alimentari. C'era una statistica recente, soltanto nella città di New York ci sono 30 tonnellate di cibo al giorno che si mandano via e quello non è giusto. È veramente necessario che attraverso la dimensione spirituale, soprattutto ricordando quella solidarietà che viene dall'incarnazione del figlio di Dio, possiamo intraprendere una forte campagna perché sia eliminata la fame nel mondo. Una rivoluzione che passa attraverso il cambio di abitudini e serie di vita, un punto che il Papa è evidenziato con grande forza. Questa campagna vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra disposizione. È anche un'esortazione a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi vicino o lontano che sia, la fame la soffre sulla propria pelle. La campagna è stata lanciata nei giorni scorsi a Roma dal segretario generale di Caritas Internazionalis, la Michel Rouat, che nell'occasione ha rivolto un appello alla comunità internazionale. Non si può vivere senza mangiare, senza bere. È uno dei primi diritti, è fondamentale. È stato riconosciuto nella dichiarazione dei diritti umani 65 anni fa oggi. Si deve trasformare in legge nazionale. Se tutti i paesi nel mondo avevano una legge nazionale sul diritto al cibo, i parlamentari, i governi si sentirebbero più obbligati di fare attenzione a questo. Io vedo in molti paesi dove la fame è forte che i governi considerano che è cosa normale, è sempre stato così. No, non si può accettare. Nella chiesa di San Francesco Arriba, le dodici presenti hanno aderito all'onda di preghiera contro la fame, partita dalle isole Samoa e il Pacifico e poi propagatasi in tutto il pianeta. Un momento di incontro con Dio per fare posto nel cuore a questa urgenza, come ha detto Papa Francesco, e diventare promotori di un'autentica cooperazione con i poveri. Invito tutte le istituzioni del mondo, tutta la Chiesa e ognuno di noi, come una sola famiglia umana, a dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce diventa un rugito in grado di scuotere il mondo. Aggiungi Grazie a tutti